Allora Roberto partirei da un punto di vista emozionale, insomma il primo gol, un gol da tre punti, un gol davanti al settore dei tifosi dove sei andato ad esultare, tu sei un giocatore esperto, non so che tipo di emozione hai provato? Quando fai gol è sempre emozionante perché comunque siamo attaccanti, viviamo di quello, è un'esplosione unica quando fai gol, quindi sono contento, sono contento perché comunque siamo riusciti a trovare i tre punti facendo, abbiamo sofferto il giusto e secondo me siamo stati bravi nei momenti difficili a gestire la partita nel modo giusto e poi per fortuna siamo riusciti a trovare quei gol e poi abbiamo difeso bene il risultato, gestendo secondo me anche abbastanza bene. Ti chiedo anche da un punto di vista personale come ti trovi, non è facile giocare con una squadra che paradossalmente, lo dicevamo anche con Truise, ha tanta qualità ma fatica a creare occasioni pulite là davanti, non so anche tu come l'hai vissuta queste prime partite da titolare? Ma io penso che sicuramente ci abbiamo da lavorare, le cose verranno, bisogna avere fretta perché comunque siamo ancora all'inizio, però sicuramente sì, dobbiamo lavorare perché possiamo e dobbiamo fare qualcosa di più e meglio soprattutto. Stasera dov'è che avete sofferto di più contro un punto di era che ha dimostrato di essere la squadra di sempre, molto cattiva agonisticamente, molto rapida con qualche giocatore di qualità? No, assolutamente, abbiamo giocato secondo me contro una buonissima squadra, ci ha messo in difficoltà, noi abbiamo messo in difficoltà loro, è stata una partita bella da un certo punto di vista perché comunque sono state azioni da ambe le parti e niente, siamo stati magari più bravi di noi a sfruttare l'occasione che poi abbiamo avuto. Cominciare il trittico così sicuramente anche da un punto di vista morale, al di là dell'aspetto tecnico e tattico, poi il calcio è anche una questione di testa, questi tre punti possono fare molto bene. Sì, assolutamente, in questo momento ci godiamo i tre punti, ma sappiamo già che comunque martedì ci aspetta un'altra battaglia e quindi adesso oggi ce la godiamo, ma da domani la testa va assolutamente alla partita di martedì. Un'ultima cosa, la dedica per questo gol è una domanda banale, ma si fa in questi casi. Vabbè, la dedica è la mia fidanzata.